Allora, con sollevra, con sollevra, con sollevra, diciamo, poi, alla decisione finale, che è una situazione umana, in merito, e ai risultati dalla consigliera Rousseau, quando mi risulta presente, effettivamente, la erronea allegazione nelle pariere del Consiglio di Conte, quando è stata la legge di 5 estrofonte. Il pariere era stato, comunque, reso, il pariere era, comunque, stato reso, dai colleghi delle revisioni, però con il protocollo 39.519, nel 22.7.2019, quindi antecedente alla data di convocazione del Consiglio Comunale. Quindi, si tratta di una, diciamo, di un errore materiale. Questo è, comunque, giusto, diciamo, l'osservazione del Consigliere, quindi, è una decisione, diciamo, tengo anche, però, a precisare che qua parliamo di ottenere penanze a sentenza età, dove, diciamo, tra l'ente è oltre vuoto inquietante rispetto a questo riconoscimento, e quindi, al fine di ritardo, per cui, diciamo, a carico dell'ente, va la decisione, per essere il Consiglio. In varietà comunque c'è, è realizzato. Allora, io ho comprendo quanto darei detto, ma di cui, ovviamente, ogni atto deve avere la sua sua sparenza. Noi dobbiamo avere anche la possibilità, e di collegarsi, e di capire di cosa si tratta. Ritengo, sicuramente, una gestiva la sua deduzione, ma non vale per questa idea, grazie. Poi non abbiamo chiesto il Consiglio, ma abbiamo chiesto, semplicemente, che il Presidente rilasse quanto io chiesto. Allora, Allora, io metto in posizione i passi, e no, però la tenere la mia.